Cosa significa essere certificati QM? Significa tanto per un agricoltore, per il semplice fatto che può esprimere l'agricoltore tutte le buone pratiche che lui può fare, in quanto altrimenti farebbe fatica a comunicare al consumatore tutte le pratiche e le opere che fa. Con questo marchio, tramite tutti i suoi adempimenti che insiste all'interno delle regole che ci danno, possiamo tracciare, rintracciare e far comunicare al consumatore tutte le buone pratiche che facciamo e la gran salubrità che questo frutto può offrire. Valle del Foglia cosa significa? Valle del Foglia significa una vallata tipica marchigiana bagnata dal fiume Foglia, la quale si estende da Pesaro all'interno verso Urbino Carpegna, dove in quest'areale ci sono parecchi prodotti a vocazionalità agricola, come tra l'altro la pesca di Montalabate, oppure un buon vino come il Bianchello o il Sangiovese dei Colli Pesaresi, oppure le Cacciotte d'Urbino, oppure tanti altri prodotti che dimenticherei e me ne fanno, diciamo, non merito se, comunque abbiamo l'olio di cartocetto alle spalle della nostra zona, ma abbiamo anche noi l'olio dei Colli di Pesaro, che sono degli oli meravigliosi, fatti da Raggiola oppure da altri brand di oli che danno caratteristiche ottime in qualità e soprattutto in quello che io chiamo sempre le serbevolezze, cioè danno un'espressione di profumi, gusti, sapori, oltre che essere nutrienti.